ciao ragazzi benvenuti alla 51esima puntata della vecchia italia io sono chantaline questo è il canale della copo agricolarum e questa serie fa parte della serie le serie delle degli agricolarum allora siamo arrivati al terzo giorno di autunno siamo a metà autunno potremmo allora possiamo potremmo raccogliere colza girasoli soia mais patate barbabietole raffano piopo erba e anche la canna da zucchero tutte cose che non abbiamo però cosa più importante possiamo seminare possiamo seminare l'erba medica possiamo seminare il trifoglio possiamo seminare l'erba di campo le carote e le cipolle allora beh erba medica ne abbiamo fatta vi faccio vedere velocemente sono andato avanti con i lavori fuori registrazione ho finito di imballare ho portato a casa tutte le balle ne abbiamo fatte un'infinità qui il fieno questa ed erba qui c'è il fieno e la paglia che ci ha portato mister leopold qui abbiamo impilato tutta la nostra medica vedete che ne abbiamo fatta parecchia e qua così abbiamo fatto con l'erba che abbiamo falciato abbiamo fatto un bel po di salamoni di insilato vedete che ce ne sono quattro file lunghissime qui e ce ne sono altre tre qua le ho contate sono circa 200 200 balle di insilato speriamo che il nostro il nostro amico del biogas e le accetti intanto lui mi dice che è ancora erba quindi dobbiamo ancora aspettare abbiamo messo qua sotto il nostro fasciatore della del pacchetto anderson allora cosa dobbiamo fare beh dobbiamo abbiamo già qua pronto la nostra emily vulcano con la paglia dobbiamo portare la paglia alle mucche le nostre mucche qui hanno da mangiare acqua dovrebbero averne gli apriamo un po il rubinetto andiamo a vedere un attimino il menu degli animali eccoci qua allora l'acqua si sta ricaricando la paglia dobbiamo portarla razione mista per il momento non non riusciamo ancora farla neanche dargli insilato non riusciamo i vari insilati perché non sono ne ancora pronti gli abbiamo dato un po di medica possiamo finire di dargli ancora medica e qui erba fresca quindi allora andiamo ad iniziare allora penso che un'altra cosa che dopo possiamo fare è andare a seminare questa qui stavo controllando un attimino quello che è la la manutenzione dei vari mezzi vedete che ho il same il titan super titan il same fortis la gallignani il t5 che è il centenario che hanno bisogno di un po di manutenzione stavo pensando di andare anche a seminare i campi 18 e 19 che sono nostri che hanno già una fertilizzazione e volevo seminarli a trifoglio trifoglio che ci serve per le pecore che abbiamo qua appunto se noi andiamo a vedere alle pecore vedete che mi chiede ossilato d'erba insilato di trifoglio fieno fieno di medica fieno di trifoglio vedete che mi chiede il trifoglio e anche i maiali mi sembra che eccolo qua il trifoglio fresco quindi possiamo iniziare a lavorare per gli animali possiamo iniziare a seminare tanto seminatrice l'abbiamo abbiamo anche i semi ci mancano i fertilizzanti ma quello vediamo allora qui avevo lasciato la nostra gallignani da metterla in officina per la manutenzione prendiamo il nostro centenario allora allora dobbiamo metterci anche poi il campo qui sotto che era ad erba io penso di ararlo e di convertirlo in produzione perché mi serve produzione devo seminare produzione seminare frumento devo seminare varie cose quindi mi servono avendo pochi campi devo cercare di ottimizzare gli spazi quindi visto che medica e erba ne abbiamo fatta e abbiamo anche altri campi ed erba un paio di campi che ho di erba li riconverto a affia a culture tradizionali diciamo così allora sganciamo qui la nostra gallignani ok qui bisognerebbe trovare un'officina un po più decente perché questa è piccolina e infatti mi prende va ripariamo anche il centenario adesso lo portiamo un pelo avanti vedete che la gallignani sono riuscito a inserirla però se devo inserire un mezzo un po più grande non ce la facciamo qui si può accendere la luce no qui si chiude la porta vedremo di farci costruire un'officina un po più grande ma si dai la ripariamo 31 euro di riparazioni perfetto la riverniciamo anche no penso che a parte lo sporco che adesso gli diamo una bella lavata penso che non abbia problemi di verniciatura allora andiamo ad agganciarci la nostra imballatrice vedete che sono tutte cose che generalmente faccio fuori registrazione in basso a destra sotto a all'erba vedete che a sinistra del contachilometri mi segna che ho ancora erba nel nell'imballatrice vedete che c'è ci sono quei due simboli verdi c'è stato l'aggiornamento dell'area praticamente adesso sono quei due simboli lì che quello di sinistra indica lo slittamento quello di destra indica la potenza del del motore applicata praticamente ma qui intanto abbiamo una pozzanghera non indifferente dobbiamo andare a dare diamo una pulita e per non dilungarmi troppo allora facciamo così io finisco di mettere a posto l'imballatrice la parcheggio sotto capanno e ci vediamo dalle mucche per dare una sistemata dagli la paglia e riempire bene le mangiatoie eccoci arrivati allora rieccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati siamo in zona pecore vi faccio vedere scusate salvataggio allora eccoci qua siamo in zona pecore campi 19 e 18 volevo farli tutti e due a trifoglio anche se mi sembra che siano abbastanza grandi però ci facciamo una bella una bella produzione di trifoglio dopo penso che così se partiamo anche con i maiali tra maiali e pecore gli useremo allora vediamo pecore che tra l'altro avevo una mezza intenzione di iniziare anche velocemente perché con le pecore fieno fieno ed erba medica che ne abbiamo finché ne vogliamo un po' di erba fresca che basta dargliela barbabietole o carote che dovremmo averne barbabietole o carote che mi sembra che ne abbiamo portate qui abbiamo le patate 24 mila litri di patate invece le carote esatto abbiamo 72 mila litri di carote che le abbiamo portate dall'altra farm quindi potremmo anche pensare di iniziare con le con le pecore allora proviamo a impostarci la gps e andiamo e partiamo con la semina allora accendiamo la gps andiamo a vedere imposta a me l'ha impostato perfetto cerchiamo di andare dritti per una porzione di terreno perfetto imposta b diciamogli il nome semina questo è il campo 8 e lo aggiungiamo ok adesso andiamo ad accenderci a dobbiamo dirgli che noi vogliamo vedere le linee per il momento eccole qua non sono andato proprio drittissimo però dobbiamo contattarci un po' anche mi ha preso un po' per traverso va bene va bene lo stesso allora proviamo a raddrizzarci spostiamo un po' più in giù ancora la linea qui perfetto a qui sono un po' troppi metri di lavoro larghezza automatica sono sei metri perfetto ottimo allora vedete che bisogna spostarlo ancora ottimo allora andiamo a prenderci la nostra riga perfetto abbassiamo la seminatrice iniziamo a seminare trifoglio l'abbiamo impostato allora slittamento 28 per cento si ce la facciamo tranquillamente perfetto perfetto allora io tolgo le linee che sono brutte da vedere registrazione raddrizzo via questa questa parte di semina e andiamo avanti con la semina del del nostro trifoglio appunto per maiali e pecore allora io intanto ho avuto dei problemi in zona mucche con il taglio delle balle sapete che io le balle a me le balle non piace buttarle intere nella mangiatoia ma mi piace tagliarle rifare il mucchio di prodotto che sia erba che sia erba medica che sia fieno che sia quello che si vuole e dopo di caricare le mangiatoie praticamente non mi lascia più tagliare le balle non so come mai ma anche se vi faccio vedere intanto mettiamo l'acceleratore a mano qua faccio vedere nella global company ho l'attiva balle spuntato non mi lascia non mi lascia andare a a tagliare i balloni quindi devo capire o capire che cosa è successo ma mi sembra che errori non ne ho nel log quindi mi sembra strano o che devo informarmi che non sia la mappa che praticamente tra virgolette rifiuta il taglio delle balle ma mi sembra strano perchè è un'impostazione della global company o comunque devo risolvere magari comprando un'attrezzatura che mi faccia sfaldare le balle teoricamente c'è so che ce n'è una che abbiamo usato anche nella serie che facciamo noi agricolarum assieme ad iron farmer per il suo canale e praticamente è un macchinario che era stato fatto per la per il contest per il mod contest del 19 e c'è questo macchinario che appunto gli si buttano dentro le balle lui le disfa e fa il mucchio per terra quindi potremmo risolvere in questa maniera comunque stiamo cercando di portare avanti la nostra carriera qui con la nuova mappa abbiamo sistemato le mucche vi ho fatto vedere ho fatto un bel po' di insilato dovremo andare a fare un piccolo contratto anche con il responsabile del biogas per vedere che quando tutto quello insilato è pronto ce ne prenda un po' in questo campo qua davanti che vedete la mia intenzione era quella di mettere i cavalli mettere un piccolo maneggio più avanti faremo anche quello voi sapete che in questa mappa io uso la maize plus dovrebbe uscire fra un po' dove in teoria doveva già essere uscito ma non è ancora uscito niente dovrebbe uscire la horse extension praticamente verranno inserite mi sembra un altro tipo o due tipi di erba apposta per i cavalli per appunto fare un cibo specifico per i cavalli tanto smettiamo di andare sul campo del vicino magari che così magari non litighiamo e quindi verranno aggiornate anche le mappe pronte per la maize plus perchè hanno bisogno dell'aggiornamento per inserire questi nuovi tipi di erba quando ci sarà sarà stato inserito e avrò fatto tutte le modifiche del caso per inserire questa horse extension andremo a mettere anche i cavalli quindi riusciamo a fare anche quello buono allora io vi faccio un ultimo taglio e ci rivediamo tra un attimo alla fine della semina dei due campi con il trifoglio rieccoci ragazzi allora abbiamo quasi finito di seminare i nostri due campi di trifoglio sono quasi le 11 di mattina e non più tardi di un paio di minuti fa mi ha telefonato una signorina mi ha telefonato una signorina dicendomi che gli ha dato il mio numero di telefono Mr. Leopold a questa signorina serve un aiuto serve un aiuto vi faccio vedere a questa signorina ci offre 3.226 euro per trebbiare il suo campo numero 7 quasi 2 ettari di campo a girasoli lei sa che abbiamo Mr. Leopold gli ha detto che abbiamo la trebbia funzionante e di contattarci per questo lavoro quindi finito in questo momento di seminare spegniamo la gps vi faccio vedere in mappa il campo 7 qua è vicinissimo alla nostra farm quindi non ci sono problemi il campo 18 e il campo 19 sono stati seminati a trifoglio vedete perfetto sono stati piantati non dovrebbero esserci problemi di temperature sinceramente non ho guardato ho fatto un errore da principiante sempre guardare se le temperature se il trifoglio chiede 5 gradi ne abbiamo 21 non ci sono problemi perfetto allora andiamo velocemente a casa portiamo a casa il nostro fortis con la nostra seminatrice li mettiamo lì in zona lavaggio perché vedete che il fortis ha bisogno di essere lavato accendiamo i lampeggianti accendiamo i fari fari accesi sempre anche di giorno sulle strade e andiamo velocemente a casa qui non passa nessuno perfetto andiamo velocemente a casa prendiamo la trebbia e andiamo a trebbiare i girasoli per Froyline e Jennifer perché qui siamo vicini alle terre tedesche siamo nel nord nord Italia e qui abbiamo anche personaggi che hanno nomi tendenti al Deutschland quindi ci adattiamo un attimino siamo sui confini ci vediamo tra un attimo per la trebbiatura dei girasoli eccoci qua allora ci siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi eccoci qui allora dobbiamo attaccare la PTO ok apriamo la nostra lama apriamo la nostra trebbia abbassiamo e iniziamo perfetto ah e se magari gli diciamo la signorina si accetto il contratto magari riusciamo anche a trebbiare i girasoli perfetto allora noi iniziamo beh dobbiamo ringraziare Mr Leopold quando lo sentiamo per aver dato il nostro numero di telefono a questa ragazza che appunto aveva bisogno di questo aiuto e in più noi adesso fuori registrazione andiamo avanti con la mettitura dei girasoli dopo li porteremo dove ci chiede Froyline Jennifer e andiamo avanti vediamo dopo quando ci rivedremo andremo ad incassare quello che è il nostro compenso anche se non è tantissime cose sono poco più di 3000 euro però più che altro è per iniziare a farci conoscere nella nuova zona allora io vi ringrazio vi ringrazio siamo arrivati a fine puntata vi ringrazio per avermi seguito per aver seguito questa 51esima puntata della vecchia Italia vi ricordo in descrizione trovate il link della mappa la mappa è la Pagarusha ve l'ho detto non è italiana però ha molte conformazioni italiane vedete che è molto collinare è una zona che rispecchia veramente il nord Italia io abito nel nord Italia quindi non ci sono queste culture perché noi abbiamo fruttetti dove abito io però come paesaggistica devo ammettere che rispecchia parecchio quello che è il nord Italia zona o anche il centro Italia la zona penninica quindi ci sta benissimo per la serie che si chiama vecchia Italia in descrizione trovate anche il link ai nostri social della Coppa Agricolarum la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram il nostro canale Twitch dove vi invito ad iscrivervi e vi invito anche a seguirci e a seguire le altre serie delle serie degli Agricolarum che trovate qui su questo canale della Coppa Agricolarum canale YouTube dove siete sintonizzati per seguire questa mia serie vi richiedo ancora vi dico se queste nostre serie vi piacciono fateci conoscere anche i vostri amici ditegli di provare a vedere i nostri video per vedere magari se dai nostri video riuscite anche ad imparare diciamo così a vedere più che imparare a vedere delle cose nuove avete visto in questa serie la Rea l'abbiamo appena aggiornata è uscito l'aggiornamento questa settimana della Rea non c'è più tutta quella scritta bianca adesso è molto più discreta ci sono i simbolini in basso vedete vi lascio solo quelli ci sono i due simbolini verdi che danno lo slittamento del macchinario sul terreno e la forza motore a quanto a che percentuale sta lavorando il motore quindi vedete che usiamo delle mod particolari quindi usiamo anche la Season se magari volete iniziare ad usare la Season siccome non è una mod semplicissima la Season da usare con queste nostre serie magari potete capire qualche piccolo suggerimento se avete delle domande da fare non esitate scrivete pure nei commenti della puntata vi risponderò e niente mi sono dilungato fin troppo io vado avanti con questa missione per Freude and Jennifer vi aspetto per la 52esima puntata della Vecchia Italia ciao ragazzi e buona giornata ciao